Sia una bella frase anche per la vita. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, per le conclusioni. No, no, ma se restate qua, almeno... Buongiorno a tutti. Ho la motivazione per essere il più rapido possibile, anche perché ho come la sensazione di un déjà vu, essendo la terza volta su questo podio, ma non è un déjà vu perché in realtà il vostro lavoro ha permesso di fare un gigantesco passo in avanti. Allora, sintesi estrema. Intanto devo chiedere scusa al signor Sindaco della città di Milano perché sta diventando più che stalking questa mia presenza in città. Facevamo il conto adesso con Beppe il 13 settembre il patto per Milano, con peraltro la visita alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Siemens, quindi un appuntamento importante. Il 20 settembre la iniziativa semestrale della Camera della Moda della settimana della moda e poi al Museo Leonardo la presentazione del piano Industria 4.0 che oggi prosegue, secondo step, a Verona. Saremo a presentarlo. In settimana saremo anche a Torino. Settimana prossima andremo al sud, a Napoli, a Bari. Quindi quel grande progetto dell'Italia 4.0 che va avanti. Ed oggi abbiamo colto l'occasione per un triplice passaggio, il San Raffaele che peraltro è uno dei partner di questa operazione, la triennale con i 110 anni di Salini in pregilo e adesso la conclusione con l'impegno solenne che assumo di fronte a Sala di non venire la settimana prossima a Milano. Al questore, al prefetto, a tutti voi che ringrazio peraltro per la pazienza. Ci torno però la settimana dopo per l'associazione industriale. Però perché al netto delle battute e dei sorrisi che ci scappano questa grande attenzione alla città? Perché oggettivamente, in questa fase, in questa stagione, per una serie di circostanze, Milano ha la possibilità e vorrei dire la necessità di prendere per mano il Paese e di portarlo nel futuro. Non è facile. Non è facile perché mai come in questo momento noi viviamo una stagione in cui la preoccupazione sul futuro è una preoccupazione che assume connotati molto differenti, molto diversi, ma molto radicati. La gente ha paura che il grande orizzonte del domani non sia così bello come ci è stato raccontato. Non è così. Ci sono naturalmente nuove sfide, nuove difficoltà, eppure l'età media si allunga, la qualità della vita cresce, il numero delle persone che vivono in povertà diminuisce, la politica ha la possibilità di cambiare profondamente, nel cuore, la vita delle persone. E tuttavia questo sentimento, questo mixed feeling, questo clima di preoccupazione, è un elemento di grande incertezza e inquietudine. Ecco perché l'Italia ha una responsabilità ed ecco perché a Milano tocca prendere per mano il Paese e portarlo ad avere una dimensione di futuro che sia all'altezza del nostro passato. Questo è l'obiettivo molto sintetico. Human Technopole diventa esattamente il simbolo, uno dei simboli, non c'è soltanto un simbolo, ma sicuramente uno dei simboli di questa operazione. non è normale in altre parti del Paese mantenere gli impegni con la cadenza che ci siamo dati. Io ero qui il 10 novembre del 2015, quindi meno di un anno fa, in un luogo che è un luogo che non soltanto per Milano, per la storia culturale italiana e europea, è un luogo che mette comunque i brividi, e anche per la storia, persino della resistenza di questa città, ha un suo background importante. Ero qui insieme a voi per dire lanciamo questa proposta. Ci sono state anche le polemiche, guai a farcele mancare, ma devo dire, grazie al lavoro di tutti voi, a cominciare del Ministro Martina in primis, siete stati, non me ne assumo il merito, ve lo riconosco, capaci di superare anche gli elementi di difficoltà che via via si sono verificati. Quel disegno strategico sul sistema Paese, di livello internazionale e con benchmark internazionale, adesso è finalmente costruito. C'è stato un secondo passaggio, cos'era? Febbraio di quest'anno. Ci siamo detti, diamoci una registrata, verifichiamo cosa va cambiato e cosa no. E adesso, caro Roberto, il vostro lavoro è stato un lavoro prezioso. Siamo contenti dunque che questo grande concorrente si avvicini per essere competitivo sul panorama scientifico internazionale. Grazie a tutti quelli che hanno dato una mano, a quelli che sono dall'altra parte del teatro. Vedo Mario Rasetti, che è stato uno dei primi a propormi questa intuizione. Lo voglio ringraziare, uno tra i tanti, ma forse il primo a suggerire la necessità del rapporto tra i big data e la necessità di investire sulla medicina, sulla qualità della vita, su life science, su tutto ciò che è innovazione applicato alla qualità della vita. E contemporaneamente siete stati bravissimi voi nel fare il progetto. Beh, adesso qual è il compito della politica? Fare un passo indietro. Intendiamoci, non dalla legge di stabilità. Quindi vedo Cingolani che subito mi ha guardato con fare minaccioso. Ma il compito della politica, io penso che la buona politica stia esattamente in questo. Credo che Beppe sia più convinto di me e Maurizio anche. Noi abbiamo dimostrato qual è il disegno strategico, e saluto anche i rappresentanti della regione che su questo hanno dato la massima disponibilità. vedo l'assessore Aprea, ero qualche istante fa con il presidente Maroni, anche da parte della regione penso che vi sia una piena condivisione su questo. Noi abbiamo dato l'indirizzo strategico. Nell'area dell'Expo non lasciamo semplicemente un'operazione di piccolo cabotaggio. Milano non se la merita. Si può fare ovunque un'operazione di piccolo cabotaggio. Alziamo il livello delle aspettative. L'abbiamo fatta, ci abbiamo messo i soldi, continueremo a seguire questo aspetto della Vilpecunia, che comprensibilmente viene richiesto. Ma adesso tocca a voi fare quello che sapete fare perfettamente. La parte scientifica di rilievo internazionale è chiamare i migliori. Nessuno si può permettere di mettere il naso, il becco su chi viene scelto, perché quella stagione della politica è finita. Semmai, poi, molte realtà non l'hanno neanche vissuta. Ma nessuno si permetta di mettere il naso su chi va chiamato come, quando e perché. Noi vi imponiamo, non vi chiediamo, di prendere i migliori, perché questo è l'orizzonte che rende percorribile un grande progetto come Human Technopole e siamo naturalmente desiderosi di vedere i risultati sul territorio. Il mio elemento di gratitudine per questa città sta anche nel riconoscimento del ruolo delle università di questo territorio. Si è fatto un grande scooter nei primi giorni, nelle prime settimane. Ah, ma c'è poca milanesità. Non dobbiamo recuperare. Abbiamo coinvolto tutti quanti e credo sia un fatto positivo. Ne abbiamo coinvolti talmente che il Rettore del Politecnico ve lo portiamo a Roma, così ce lo portiamo con noi per seguire un altro progetto importantissimo che è quello di Casa Italia. Vale a dire, il progetto che dovrà cercare di farci diventare non solo i primi i più bravi nella gestione dell'emergenza ma anche i più bravi con un po' di tempo temo nella gestione della prevenzione. È fondamentale. Io sono felicissimo di dire che sono stati bravi i vigili del fuoco con 238 salvataggi. Però se posso poter dire tra dieci anni che siamo stati anche tra i più bravi a prevenire faccio una cosa che è sacrosanta dell'interesse del Paese e quindi Azzone e lo ringrazio verrà a darci una mano e adesso a noi non rimane che dire non vedo l'ora che si parta. Maurizio ha detto prima pietra quando hai detto quando ti sei spensolato? Gennaio? Non sento Aio? Febbraio? Aio. Nel febbraio ho preso un mese in più l'ho salvato. Nel febbraio del 2017 tanto le elezioni stanno il 18 Maurizio gennaio-febbraio era una battuta questa vorrei dirlo ai giornalisti no perché già visto subito scattare la foto si dice non vedo l'ora che ci sia la prima pietra vi provo con Po io la vedo l'ora vedo l'ora in cui ci sarà l'ultima pietra che poi non ci sarà mai l'ultima vedere l'ora dell'ultima pietra che cosa significa? Significa immaginare come può essere questo Paese tra dieci anni e oggi ho fatto un po' di iniziative tutte legate al tema del futuro e mi dicono beh però tu devi gestire il quotidiano devi occuparti della concretezza devi parlare di oggi qui ma non è pensabile gestire il quotidiano senza una visione senza un orizzonte senza sapere dove vuoi andare altrimenti diventa mera amministrazione piccola spiccia spiccia e io la vedo l'ora l'ora che vedo è l'ora in cui un Paese è sì orgoglioso della bellezza del suo passato ma anche disperata voglia di futuro di tornare a progettare di tornare a immaginare di fare quello che molti centri di ricerca internazionali continuano a fare tutti i giorni e che noi dobbiamo essere in grado di fare ancora di più in Italia perché il mondo dei prossimi anni sarà un mondo sempre più interconnesso ovvio sarà un mondo sempre più in mano alle previsioni alle previsioni ai big data alle grandi analisi ma sarà anche un mondo in cui ragionevolmente vivremo di più dovremo cercare di vivere meglio e dovremo cercare di farlo in dei luoghi che ci educhino alla bellezza quindi è un mondo fatto apposta per l'Italia sembra che ci abbiano fatto un abito su misura abbiamo una sanità che è in grado di competere a livello internazionale abbiamo una qualità della vita che è tra le migliori al mondo abbiamo una forza del valore umano e del capitale umano che ha pochi uguali e abbiamo anche fortunatamente qualche città che anziché rifiutare la sfida che anziché dire no prende per mano il paese e lo porta nel futuro ecco io sono grato a Milano viva Milano viva Human Technopole e lasciatemelo dire grazie anche per la pazienza che avete dimostrato tutti perché un anno fa più o meno no dieci mesi fa io me le ricordo alcuni sms alcune telefonate alcune email circolari alcune come sempre nelle imprese grazie per averci creduto di essere stati tenaci perché è stata la vostra tenacia che consente oggi a questo progetto di smettere di essere un progetto c'è un logo la H sembra molto di Hilary a proposito poi c'è la T non so se l'avete messa per recuperare sotto ma ma la H io non metto bocca ovviamente neanche sul logo ma il logo c'è il luogo c'è la qualità non manca cerchiamo di essere tutti all'altezza di questa grandiosa sfida in bocca al lupo a tutti noi un'ultima affermazione di servizio perché voi dovete perché mi diceva cinque